Messina ha sconfitto in finale, si sapeva che il Matelic era a formazione probabilmente più completa, più quotata, eppure Messina che se l'è giocata benissimo e paga quel gol subito in avvio. Abbiamo fatto una grossissima partita, un grossissimo match, peccato che secondo me potevamo essere un po' più fortunati, qualche decisione dell'arbitro, specialmente alla fine Succarini che c'era un calcio di rigore, diciamo che ha arbitrato abbastanza all'inglese l'arbitraggio, è stato un arbitraggio un po' sofferente da parte del Messina, ma detto questo abbiamo fatto una grossissima figura, i ragazzi hanno creduto fino alla fine di poterla recuperare e vincerla questa partita, non l'abbiamo mai mollato. Io sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, a dire la verità il mister ha preparato una grandissima partita, loro non si aspettavano il cambio del modulo che il mister si metteva 3-4-3, hanno sofferto tantissimo e è mancato il gol, è mancato l'ultimo tocco, ma penso che sia stato un po' il problema del Messina tutto l'anno questo. Sugli spalti peraltro tra Amatelli e Messina ha vinto ampiamente la tifoseria giallorossa, peccato che magari quello poi non basti sul campo. Non è la prima volta che i nostri tifosi vincono la partita al di fuori del campo, io penso che questa tifoseria anche al di fuori del campo e non in questa categoria, in altre categorie fa la sua differenza. Peccato, però devono essere orgogliosi perché i ragazzi hanno dato l'anima, hanno dato tutto quello che avevano, gli ho fatto i complimenti, sia al mister che ai ragazzi, veramente sono usciti estremati, hanno sudato la maglia. Proprietà che è stata contestata, è stata una stagione tormentata, tanti DS, tanti allenatori che sono cambiati, da dove si deve ripartire? La tifoseria sembra non voler più concedere credito a questo presidente, a questa famiglia. Io penso che qualche errore è stato fatto, è stato commesso, ora passeremo due o tre giorni, poi ci incontreremo con la proprietà per mettere giù un programma e cercare di ripartire con serenità. Una squadra senza il suo pubblico, senza i suoi giornalisti, senza un ambiente compatto, è inutile che si fa una squadra per arrivare primi o tra i primi posti, perché io ripeto, quando qui si è vinto qualcosa a Messina, quando c'eravamo noi, quando c'ero io, l'abbiamo fatto sempre con un ambiente compatto, si remava tutti dalla stessa parte. Io penso che sia un'incazzatura un po' in generale di come sono andati questi anni, però ora bisogna ripartire tutti insieme, ora tra un paio di giorni mi incontrerò con la proprietà per parlare del futuro. E da dove ripartire? Ci sono elementi come Arcidiago, non hanno bisogno di presentazioni, tanti altri, senza far torto a nessuno, Ferrante, Coscimano, Catalano, che hanno dato comunque un loro contributo. Forse è presto per dirlo, ma da chi si può ripartire? Hai detto bene l'ultima frase, è un po' presto per parlare di questo, si vedrà in questo periodo è tutto, è normale che prima di fare una squadra, prima di fare tutto, faremo delle valutazioni in todo su tutto. Però come andrà a finire? Io veramente ringrazio i ragazzi perché sono stato orgoglioso di essere loro DS nell'ultimo mese e mezzo perché veramente in campo hanno sempre dato tutto.